Federico Zampaglione, benvenuto sul canale di non aprite questo blog, sono contento di averti qua sono contento soprattutto perché ho visto il tuo film The Well che uscirà al cinema diciamo più o meno quando? Ma guarda, avevamo questa data del 18 luglio però poi gli esercenti ci hanno consigliato di rimandarlo di un paio di settimane perché avrebbero potuto darci più sale e quindi essendo una distribuzione indipendente ti devi un po' adattare a quello che ti consigliano per cui credo che sarà sul fine luglio, primi d'agosto Ok, prima di cominciare a fare un po' di domande io invito la chat a fare domande a Federico perché è un'occasione bella poter parlare con il regista di un film insomma avere una comunicazione diretta un po' come dicevamo prima, come si fa ai festival che la gente ti può avvicinare tu hai presentato, intanto introduco il film il film è un film horror ovviamente, se no non saresti qua un film horror che io e molti definiscono gotico ma anche con delle componenti moderne io però partirei dalle origini perché giustamente tu ti confronterai con questa cosa all'infinito cioè tu sei un cantante e anche piuttosto famoso perché veramente hai raggiunto anche dei livelli di successo importanti nel passato e ti porti dietro l'etichetta di cantante quindi introduciamo il fatto che tu ora sei anche un regista quindi insomma hai diversi film sulle spalle Esattamente, ormai ne ho fatti The Well è il mio quinto film in realtà Il terzo horror, giusto? Sì, è dal 2007 che sto facendo film per cui ormai credo che siano due carriere parallele quella del regista e quella del musicista e si alternano cinque film sono tanti il primo è stato nel 2007 da lì in poi con una certa regolarità ho fatto dei film poi c'è stato un periodo invece in cui non li ho più fatti perché dal 2014 circa al 2021 ho avuto un periodo molto di lavoro nella musica molto intenso ho fatto diversi album e quindi in qualche modo lì non ho avuto il tempo di fare film ma soprattutto non avevo neanche l'idea giusta sai fare un film significa prendere due anni della tua vita e consegnarli se non di più non dico tre ma quasi tu prendi tre anni della tua vita e li consegni a qualcosa e sai già che comunque dovrai dedicargli il massimo dell'impegno, delle energie, del tempo perché sono processi molto lunghi c'è da dire che sembra strano che un cantante faccia il regista ma in realtà tantissimi registi tu lo saprai anche meglio di me come Wes Craven era un professore per esempio cioè nei sessi registi nascono da un po' da tutta anche da altri mestieri Tarantino affittava le videocassette le videocassette Rob Zombie faceva il cantante di musica industrial metal quindi da questo spunto ti passo alla domanda classica come si impara a fare l'horror lo si guarda immagino a questo punto lo si guarda con l'occhio di chi vuole imparare forse anche non solo da fare ma l'horror io non ho mai guardato con l'occhio di chi vuole imparare io l'ho sempre guardato con l'occhio di chi vuole guardare un horror cioè per me questo genere che è poi infatti così lontano anche dalla musica che ho fatto in tutti questi anni è innanzitutto una passione un qualche cosa che ho sempre amato sin da ragazzino e che continuo di fatto ad amare quindi se io non facessi il regista di questo tipo di film comunque sarei un grande fan del genere e li continuerei a guardare con la stessa frequenza in cui li guardo adesso l'horror è una dimensione ben precisa quindi o ami veramente dirigere quel tipo di film oppure non ne trovi proprio la ragione perché molti registi con cui ho parlato mi dicono ma qual è il bello di raccontare delle storie così magari surreali, così violente cioè non capiscono perché uno dovrebbe voler portare lo spettatore io ti garantisco che io e chi segue il mio canale ti capiamo tutti perché siamo tutti quello che voglio dire avendoti conosciuto anche a chi mi segue è che tu sei come noi e noi siamo come te cioè proprio abbiamo gli stessi gusti e capiamo capiamo perfettamente questa cosa cioè del fascino di raccontare l'oscuro raccontare anche ciò che ci terrorizza però ti deve piacere nel senso devi trovare in questo tipo di linguaggio in questo tipo di comunicazione che hai con lo spettatore cioè ti deve piacere l'idea che lo spettatore abbia paura che lo spettatore stia in uno stato di ansia di angoscia e quindi se non hai questo desiderio di incontrare lo spettatore in queste zone buie un regista dice ma che genere è cioè ma soprattutto poi viene sottovalutato l'horror magari viene visto come da sempre ormai no? da sempre viene visto come un genere generalmente anche che serve così un po' a iniziare no? a prendere confidenza col mestiere di regista ma poi alla fine andarsene via perché in fondo il cinema poi è un'altra cosa il cinema di livello è un'altra cosa intanto do il benvenuto a Roberto Donofrio che si è iscritto al mio canale Twitch quindi ci sei voluto ci sei voluto tu per farlo convincere a venire in questa piattaforma di giovani tra l'altro ringrazio Roberto che ha scritto anche qualche articolo sul mio sito e mi ha permesso di conoscere Federico che è una persona che segue l'horror da quando dalla preistoria praticamente ma guarda l'horror per me è stato un incontro importante nella mia vita io non era a conoscenza dell'horror di nessuna forma poi da ragazzino una volta andrei a Luna Park con mio padre lui mi portò nel tunnel degli orrori del Luna Park dell'Eur dove c'era questo tunnel degli orrori ma lì eravamo in pieni anni 70 quindi questo tunnel degli orrori era particolarmente spaventoso anche con delle cose gorre in mezzo cioè non si limitavano soltanto a metterci braccia amputate e cose così sì sì il chirurgo che sbudellava capito cose molto forti quanti anni avevi? eh aveva avuto forse sei anni all'incirca allora andando a Luna Park a un certo punto mentre uscivamo io vidi questo drago dentro la bocca del quale entravano dei trenini e chiesi a mio padre papà ma che gioco è questo? come ci... che cos'è? e lui mi disse questo è il tunnel degli orrori ah e che significa? è una cosa che spaventa insomma mi incuriosì questo questo e gli dissi perché non ci andiamo? e lui mi ci portò mi mise su sto trenino ancora me lo ricordo perché poi sono quelle emozioni talmente life changing che poi ti rimangono dentro per sempre e allora partiamo infatti volevo chiederti quali film ti avessero un po' portato nel mondo dell'orror in realtà è una giostra che ti ha portato è una giostra io entrai dentro questo tunnel e cominciarono tutta una serie di ad apparire tutta una serie di personaggi in più c'era un'acustica terrorizzante urla suoni è un peccato che oggi non esista più tanto questa cosa dell'orror proprio reale dentro a una casa beh ci sono quelle case che ancora poi proprio gli attori veri che intervengono ah ok sì 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 ci sono ma sai lì ti arrivavano delle ragnatele in faccia poi si aprivano queste porte all'improvviso e uscivano delle cose terrorizzanti quindi insomma fu un'esperienza di grandissimo impatto su di me ti leggo due cose dalla chat così facciamo una cosa anche più interattiva ovviamente c'è qualcuno che dice incredibile come uno che canta canzoni romantiche e poi faccia film dell'orrore questo è qualcosa che ormai te lo dicono tutti e secondo me è il bello anche è proprio questo il bello qua Roberto dice che dopo Scedo eri stato soprannominato Zombiglione questo non l'ho mai sentito questo in realtà era un soprannome che mi ero dato da solo perché facevo delle recensioni per la rivista Metal Hammer che era una rivista si chiamava proprio l'angolo di Zombiglione l'avevo chiamato in cui io sostanzialmente consigliavo facendo una sorta di recensione e davo dei consigli ai lettori della rivista Metal su quali fossero i titoli interessanti di andarsi a vedere ma l'ho fatto forse per più di un anno per cui sono usciti diversi numeri in cui parlavo di cinema horror è stata un'esperienza molto divertente le domande però diciamo le domande della chat rispondiamo un po' veloce perché se no qua non voglio finire più Luna chiede l'opera cinematografica o discografica che ti ha cambiato la vita o meglio ti ha arricchito di più è una domanda difficile beh allora innanzitutto bisogna capire se si parla di cinematografica o di musicale e diceva tutte e due se ne vuoi scegliere una ovviamente per ognuna delle due dimensioni ci sono cose completamente diverse riferimenti diversi cioè io mi sono approcciato alla musica con l'ascolto del blues ho cominciato ad amare veramente la musica attraverso i dischi di Eric Clapton attraverso i dischi di Jimi Hendrix di B.B. King di tutta la scena blues quella è stata la porta di entrata il blues Freddie King Albert King cioè tutti i grandi bluesmen della chitarra fondamentalmente ascoltai una volta un disco di Clapton dal vivo e rimasi sconvolto perché senti queste note uscire da uno strumento che io non avrei mai immaginato fosse capace di fare quelle note e quindi il blues mi ha tirato dentro per anni alla musica sia suonarlo che ascoltarlo poi piano piano ho scoperto più il mondo cantautorale e e lì poi ovviamente ho avuto riferimenti e anche personaggi con i quali ho collaborato ho fatto tante cose che sono stati un po' i miei maestri come Lucio Dalla come Franco Califano Pino Daniele o insomma artisti veramente pieni di risorse per quello che riguarda il cinema anche lì è sempre stato un percorso diverso l'unico punto di contatto sta con Gio D'Amato perché quando io avevo fatto il primo contratto con la casa discografica mi chiamarono e mi dissero c'è un regista che vuole che gli facciate le musiche insomma era però un film così un po' su due gang musicali e quella era Gio D'Amato e quindi il mio primo lavoro professionale l'ho fatto anche grazie a lui nel cinema quindi evidentemente poi il grande successo è arrivato con Due Destini che era una canzone presente in un film quindi diciamo che queste due strade dentro di me sui videoclip ho messo sempre molta attenzione facendo delle storie quasi fossero dei cortometraggi quindi le due arti le due cose per me si sono sempre un po' incontrate ovviamente la domanda di Raffaella è un po' su questo come coniughi questa sensibilità e poetica musicale con la parte horror del cinema e di un cinema violento ma io penso poi dico la mia hai anche risposto a diverse volte queste cose non siamo fatti solo di una sola componente non è che uno che guarda l'horror è tipo cupo tutto il giorno e non ha esatto nella vita noi viviamo esperienze di vario genere per semplificare possiamo fare sogni e siamo in grado di fare incubi quindi la psiche di ognuno di noi può generare stati d'animo sensazioni miei emozioni a 360 gradi ti chiedono se la musica o il cinema ti dà più soddisfazione ma a me da soddisfazione esprimermi cioè la cosa che mi interessa di più e che mi è sempre interessata di più di questo lavoro non è mai stato il successo i soldi la popolarità la celebrità ma l'espressione la possibilità di raccontare qualcosa di me e di poterla condividere cioè stati d'animo visioni emozioni amori oppure incubi ma sempre cose che partono da me e quindi non solo credo che cioè alla fine l'horror ha anche una forte componente romantica se ci pensi cioè spesso si raccontano storie di mostri storie surreali a cui ti devi aggrappare veramente a delle cose ci devi credere capito nel senso in genere per inguaribili romantici perché è fantasia perché è evasione allora io ci trovo poi dopo mi ricollego questa domanda ti faccio finire poi dopo volevo chiederti qualcosa appunto sulla scrittura visto che parliamo appunto di qualcosa che hai dentro e anche come però intanto finisci quello che dicevi poi no dicevo quindi alla fine io mi esprimo per atmosfere cioè se devo crearti un'atmosfera in cui ti racconto un mio stato d'animo sentimentale una cosa vado a cercare in quelle atmosfere se ti voglio raccontare una storia paurosa terrorizzante cerco un altro tipo di atmosfere ma sono sempre io che mi muovo all'interno di atmosfere e cerco sia con la musica che con il cinema mi piace però cercare di mandare fuori delle emozioni forti cioè non mi è mai piaciuto nella musica fare il pezzetto estivo e sentirlo suonare all'acqua fan con la gente e se magna al cocomeo cioè è un tipo di cosa che proprio non ho mai fatto ho perso un sacco di soldi probabilmente non facendola ma non me ne fa fregare di meno nel senso con la musica ho sempre cercato di scrivere delle canzoni che arrivassero un po' nel cuore che potessero toccare delle corde emotive perché mi piace l'emozione forte e quindi anche col cinema poi vado a cercare emozioni forti e quindi vorrei andare anche su The Well perché se no poi non parliamo di qualcosa di importante che sta per uscire al cinema appunto la scrittura di un film o nello specifico di The Well da cosa nasce cioè la storia l'idea tutto quanto nasce è partito da quest'idea del pozzo un giorno io parlavo con mia moglie e dicevo sai è importante quando tu racconti una storia paurosa identificare un luogo un centro di questa storia da cui il male può scaturire un qualcosa che già solo al pensiero ti farà brividire una volta che tu hai quell'idea la puoi sviluppare e quindi le chiesi per esempio a te cos'è una cosa che ti spaventa tantissimo e lei mi rispose dritta proprio senza pensarci un attimo il pozzo ah il pozzo cominciate a pensarci a questa cosa e devo dire sì è un posto è un qualcosa di molto inquietante tra l'altro insomma ti ritornano in mente storie di persone che ci sono cadute dentro come il ragazzino Alfredino Rampi che non sono riusciti più a salvare altre storie io mi ricordo che quando ero adolescente a un certo punto a un mio amico non trovarono più il fratello dove sta dove non sta lo cercarono insomma alla fine lo trovarono morto nel pozzo questo era un mio caro amico questa storia fu pesante quando chissà come era finito lì dentro chissà perché però lo ritrovarono lì dentro e quindi è un luogo che io ho sempre avuto un po' sempre inquietato e quindi un po' anche ciò che ti è accaduto nella vita cioè questa storia ti ha sicuramente colpito cioè ti ha colpito ti ha spaventato questa storia che è capitata al tuo amico è entrata nel film in qualche maniera ha generato anche cioè fa parte fa parte di te e quindi fa parte anche del film della storia sì perché poi alla fine quello che noi viviamo a volte non viene elaborato subito no? cioè tu puoi vivere in tramo una cosa però poi questa cosa viene fuori tanto tempo dopo allora probabilmente è una cosa che era rimasta nel mio subconscio e che quando mia moglie mi ha nominato quel luogo mi si è risvegliato in un attimo un pensiero dark rispetto a questo pozzo quindi poi ho chiamato il Gensini col quale io scrivo spesso gli ho detto ma sai che mi è venuta la stella del pozzo e lui ha detto sì però secondo me bisogna inventarci una cosa insomma alla fine c'è anche una bella costruzione che mette insieme anche tantissime diciamo classici del cinema gotico no? io ci vedo Dorian Gray il ritratto di Dorian Gray Dracula perché poi è uscito fuori il dipinto Gensini tirò fuori l'idea del dipinto la persona con la quale io scrivo sempre c'ho scritto shadow c'ho scritto insomma e io gli dissi gli detti l'idea del pozzo e lui se ne uscì col quadro allora quest'idea che tra questo quadro e questo pozzo ci fosse una attinenza e che l'uno interagisse sugli eventi e l'altro mi sembrò subito una buona idea per lavorare su due piani diversi di racconto e cominciamo a scrivere una prima sceneggiatura poi la sceneggiatura definitiva è stata scritta insieme a Stefano Masi che ha anche prodotto il film ma in realtà un horror l'ultima sceneggiatura la scrivi sul set cioè tu arrivi a un punto in cui segui la sceneggiatura però ti vengono anche delle idee mentre però gli ambienti le luci le ombre parlano recitano vivono sul set e allora tu ti puoi ritrovare benissimo a dire l'idea era quella di far uscire quell'attore da quella porta e farlo venire verso macchina però porca puttana guarda quell'angolo lì che è più bello la luce da là quella scala che sembra quel pezzo di scala che riusciamo a intravedere e se allora anziché farlo arrivare da lì l'attore capisci lo facciamo partire da là gli facciamo fare un percorso diverso ma è più suggestivo ti arriva di più e quello tu devi essere in grado è lì che nasce che ci vuole l'occhio del regista horror sì cioè tu entri in una stanza penso che sia anche è divertente per chi ama il cinema stare dentro queste situazioni cioè è stimolante sì il cinema horror è divertentissimo perché ti dà una possibilità di non avere limiti cioè nell'horror le forme i contorni le prospettive si possono benissimo confondere perché servono a far trovare lo spettatore ancora di più in una zona di incertezza di disagio certo quindi tu in una con me perdonami se ti interrompo perché magari il twitch è un po' un'entità strana cioè dove cerco dove si cerca di interagire molto allora io non sono molto abituato a farti a doverti cioè insomma è un po' un casino perché tu magari sei abituato a interviste più vai tranquillo vai tranquillo perché voglio coinvolgere molto le persone perché secondo me così ci si appassiona anche di più Rustblade che tra l'altro hai conosciuto al festival Stefano ti chiede di parlare delle musiche ma in realtà io ho già la domanda pronta quindi dopo ne parliamo le musiche di The Well però ne parliamo dopo perché ho la domanda pronta Al Castelter ti chiede se ti interessa l'horror estremo e poi vabbè ti fa una domanda se conosci Domiziano Cristoforo perché è stato tante volte qua ospite da me comunque se ti interessa il cinema estremo comunque lo guardi ogni tanto certi tipi di film diciamo che intanto conosco Domiziano abbiamo chiacchierato un sacco di volte dell'horror ed è uno che fa il suo cinema e porta avanti il suo linguaggio in maniera molto chiara molto precisa molto personale lui ha un suo stile e va avanti per il suo stile che è una cosa molto importante detto questo se per horror estremo a me piace tutto l'horror poi ci sono però determinati film non so i vari guinea pig piuttosto che atrox tutto quel versante forse un titolo più recente può essere stato grottesco cioè quel tipo di cinema lì che si basa esclusivamente solo su quella roba lì no non mi fa impazzire onestamente cioè se io penso a un film estremo mi piace più pensare a un film come Martyrs ma infatti i tuoi film hanno una storia molto mentre questi film che hai citato sono un po' privi di storia alcuni cioè i guinea pig sono un po' privi di storia ecco capito allora diventa come se uno si mette a guardare il filmato di quelli che scuoiano non so i castori oh è caduto diventa soltanto quella cosa lì e non mi piace tanto certo mentre invece se ci sono anche delle scene molto forti molto scioccanti ma sono inserite all'interno di una storia e allora uno segue intanto la storia e quelle scene fanno parte della storia in questo caso mi piace anche vedere dei film veramente molto estremi ma non ho nessun problema quell'altro genere lì un po' mi disgusta perché è un po' fino a se stesso c'è una domanda buffa c'è una domanda buffa di Flander dice riusciresti a fare un film horror con Carlo Verdone come attore togliendogli il suo insomma aspetto comico e portarlo proprio a fare un film secondo te riusciresti a fargli fare una parte seria in un film horror perché fa troppo effettivamente Verdone fa troppo ridere cioè è qualcosa che è innato è un po' come dire riusciresti a prendere André Segovia il re della chitarra classica e trasformarlo in Jimi Hendrix sarebbe una cosa un po' tipo un Frankstein o comunque una forzatura spaventosa nel senso una cosa che fai più quasi un esperimento allora detto che a parte Carlo è un amico e secondo me uno dei più grandi attori autori di commedia che ci siano mai stati di tutti i tempi ha fatto un mare di film che ci ricordiamo tutte le battute una per una però la tipologia di attore di Carlo il tipo di cinema di Carlo è una cosa ben precisa probabilmente snaturarlo fino al punto di pensa lui una volta in un film suo invece ha usato una scena mia horror perché c'erano lui e un altro attore non mi ricordo probabilmente era albanese che entravano in un cinema per nascondersi e proiettavano un horror e lì aveva usato le immagini di un mio film di Shadow che mi fece anche molto piacere però credo che ognuno poi cioè è come se io mi mettessi a fare quei tormentoni estivi lo potrei pure fare ma sarebbe una forzatura spaventosa quindi credo che ognuno abbia poi delle caratteristiche e valga la pena di rispettarle anche perché le facce che si usano nell'horror i volti devono avere una determinata fisicità una determinata fisionomia dei volti che magari oltretutto tu Carlo l'associ a tantissime situazioni quindi appena lo vedi la prima cosa è che non credi più a tutto il resto e ti aspetti che da quel momento in poi si metti a parlare di una voce così sì sarebbe un esperimento troppo rischioso sì allora entriamo un po' nel film il film parla provo a fare una sinossi parla di questa restauratrice americana giusto se non erro o comunque che arriva dall'estero che è Loren Lavera che arriva in Italia in un paesino da delle persone insomma è l'attrice di Terrifier 2 l'attrice di Terrifier 2 dopo ti chiederò anche poi su di lei arriva per restaurare un quadro di una nobile famiglia di questo luogo e poi da lì insomma più si stemmerà questo quadro e più inizieranno a succedere cose inquietanti e poi infine anche molto violente non dico altro perché sennò poi vi rovino il film la prima volevo entrare proprio dentro anche alle cose più materiali hai scelto di fare tutto in una più o meno in una location che è questo palazzo che si chiama Palazzo Malvisi si chiama effettivamente così esiste? no quello è il palazzo Teodoli che sta a Sambucci vicino Tivoli quindi l'hai visto e ti ha ispirato hai detto un giorno ci faccio un film qua no cercavamo questo casale nobiliare e a un certo punto mi sono arrivate mandate proprio dal produttore ah perché vi mettete scusami Federico io farei perché ogni tanto cade la linea e vabbè è una roba di secondi ok ok vi mettete un po' in squadra a dire ci serve questo e tutti si mettono a ricerca e ti mandano delle proposte un po' così no lì c'è un location manager però siccome il produttore è appassionato gli piace andare a vedere le cose mi mandò queste foto io vidi questo casale e dissi ammazza è bellissimo però allo stesso tempo aveva in sé qualcosa di sinistro cioè è un po' castello anche no è un po' castello è un'area un po' sinistra cioè c'era l'eleganza dell'antico palazzo però c'era anche un lato un po' vagamente inquietante allora poi sono andato a vederlo e in effetti la sensazione che ho avuto è stata proprio quella cioè madonna non ci dormirei mai qui dentro avete dormito lì no durante le riprese no 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 tra l'altro ci sono stati degli episodi un po' strani durante la preparazione del film in cui lo scenografo mi ha chiamato in un paio di occasioni sentivano scosso si sentivano delle cose poi una sera successe una cosa strana con la porta cioè lui andò a chiudere la porta perché aveva finito di preparare l'ambiente quindi aveva le chiavi che gli erano state date lì dal comune e se ne stava andando a casa per cui quando è uscito ha provato a chiudere la porta non si chiudeva cioè ha dato tre colpi era come se rimanesse incastrata e alla fine invece gli è arrivata una botta in faccia con sta porta gli si è chiusa in faccia lui mi ha chiamato subito dopo dicendo io la sera lì non ce vado più in poche parole perché ho avuto paura noi abbiamo girato e era un luogo molto sinistro e ispirava proprio una certa insomma c'era un po' di disagio capito ovviamente io l'ho usato tu credi negli spiriti o proprio quelli classici quelli che possono ogni tanto spostare qualcosa più che spostano qualcosa sono presenze che ci sono e che spesso rimangono legate ai luoghi in cui hanno vissuto e poi possono avere una specie di energia anche qualcosa di sì sì delle energie che tu puoi avvertire mi è capitato mi è capitato e come e in questo caso in alcuni casi le energie sono positive dice Roberto che Claudia penso di che Claudia diceva che mi ha detto che c'era una scala dove cadevano quasi tutti ma guarda ti dico cioè l'ambiente era tutto un po' vagamente appunto un po' magabro e si sentivano dire queste cose qua poi a me in particolare non è successo nulla di questo tipo quindi io non ho avuto modo di riscontrare sentivo un po' di maledizione ci vuole intorno a Filmor se no ma io però poi sono stato contento di questo nel senso che io andavo cercando un ambiente che emanasse un qualche cosa cioè gli ambienti sono come gli attori cioè una stanza parla recita quindi se tu avverti un'energia di quel luogo soprattutto in un cinema come quello horror cioè se tu stai in una commedia non gliene frega un cazzo a nessuno dell'arredamento intorno al tavolo ma l'atmosfera è importante anche per gli attori dici cioè tu dici lo metti con la cucina li metti in camera da pranzo ma tanto quello che conta sono le battute e quello che succede quindi l'ambiente diventa secondario nell'horror l'ambiente è esattamente come gli attori è esattamente come tutto il resto cioè sono gli ambienti pure che fanno molta paura e quello aveva appunto una sua tensione si sentiva una tensione detto questo abbiamo lavorato con grande impegno perché il tempo era poco per fortuna gli attori erano tutti molto dentro perché cioè questo è importantissimo il problema dell'attore come si pone rispetto al film horror è determinante io ad esempio quando ho fatto Tulpa che è stato un film riuscito a metà cioè non particolarmente riuscito uno dei motivi era proprio che c'erano alcuni attori che non entravano nelle dinamiche dell'horror non ci credeva perché poi ci sono anche dei tempi da rispettare quindi poi uno se non riesce ci sono dei tempi ma soprattutto se non ci credi fino in fondo poi è difficile tu dici puoi avere tutto il tempo che vuoi ma se se non se non sei in quel in quel binario lì non funziona non ci arrivi cioè tu immagini un attore che deve camminare in un corridoio buio e questa scena è una scena importante per cui questa avanzata nel corridoio fatta di luci fatta del dettaglio sul piede qualcosa forse buca sullo sfondo viene avanti la tensione l'espressione il respiro cioè devi sentire il cuore dell'attore che batte forte tutto questo lo puoi fare soltanto con persone che ci credono veramente in quella camminata purtroppo non sempre succede perché a volte ti capita all'attore che magari se c'è da fare un dialogo se c'è da fare una scena di questo tipo te la fa benissimo però se si deve calare poi in quella dimensione dice ma che scena è cioè capito allora lì c'è la differenza tra l'attore che crede nell'horror lo considera un genere anche nobile e la differenza poi la vedi con l'attore che invece lo considera magari un genere di serie B su The Well erano tutti intonati in un'unica direzione era come un'orchestra che voleva suonare proprio quelle note a tal proposito allora visto che parliamo di chi capisce l'horror ti faccio la domanda su Loren Lavera che perché l'hai scelta come l'hai scelta e poi chiaramente viene da un horror quindi era diciamo un po' più preparata no magari sì ma gli americani intanto va detto che loro crescono proprio con l'idea che non ci siano già nei serie B cioè nella loro formazione action drama comedy horror thriller capito per loro è tutto vedi un Ryan Gosling che fa Barbie o passa da un film capito sì sì non hanno quella puzza sotto il naso che no che in Italia possiamo dire che c'è no nel senso lì tu fai il film coi dinosauri lì fai il film con Godzilla fai il film però poi capito lo prendi come una cosa seria non lo prendi come dici ma che stiamo a fare mori al mostro capito cioè non ci daranno mai il premio non ci daranno mai il Davide Donatello perché la storia no lì l'attore quel tipo di cinema dal western la fantascienza quello che vuoi tu però è tutto sullo stesso piano quello che conta è come è raccontato il film quanto è fatto bene tanto è vero che poi nelle liste dei migliori film di tutti i tempi si trovi regolarmente l'esorcista shining ma non degli horror migliori proprio dei film capito perché vengono considerati in Italia purtroppo c'è sempre stata questa cosa anche in passato l'horror dice vabbè ma è un cinema capito di cassetta un cinema di serie B a volte la storia discrimina delle cose che poi vengono rivalutate regolarmente negli anni ti faccio un esempio Califano quando era vivo era molto sottovalutato cioè io mi sono trovato a discutere con un sacco di gente perché ma chi Califano quello che parlavano cioè lo vedevano come un personaggio romanesco un po' greve è un po' il discorso delle etichette anche una volta che ha fatto una cosa comica allora è sempre da prendere come uno non serio perché ha fatto una cosa comica perché c'è il macchinone perché c'è tante donne allora più che andare veramente ad ascoltare il livello artistico dice ma sta con il giaco queste cose così che poi mettevano in ombra tutto il grande artista che lui è stato tant'è vero che poi adesso è stato rivalutato ma Califano era un poeta non era un cantante era un poeta è stato uno dei più grandi poeti del novecento ha scritto se ti vai a sentire le sue cose il livello poetico è spaventoso però c'era tutta una cerchia che gli cantautori quelli alti dovevano essere altri capito e quello era il cantante quelli che sono sempre seri sempre sempre seri incamiciati sono incapaci sono incapaci di vedere la realtà che non è la loro sì sì cioè posso dire che è un po' anche quasi come dire è un parallelo come per l'horror cioè l'horror è come Califano per la musica cioè viene distrattato mentre c'è poetica c'è arte nell'horror come c'è anche nelle cose che ha fatto Califano cioè c'è snobberia allo stato puro perché quando tu hai capito che questo genere comunque è un genere che gode dell'amore del pubblico perché poi lo vedi che c'è un grande seguito questo genere lo vedi che c'ha dei fan reali c'ha dei fan che collezionano che vanno al cinema che indossano magliette che vanno alle retrospettive che comprano edizioni di ogni sorta che hanno la passione vera quella che li porta a parlarne in rete a fare cose come quella che stiamo facendo adesso perché tu ti senti al di sopra di tutto questo cioè perché come fai a pensare che tutto questo sia di serie B no sei tu che sei di serie B sono qua sono d'accordo con il 100% è una lotta che dobbiamo fare è una lotta infatti sono contento che sei qua in una piccola realtà underground a parlare con me e con le persone appunto vere che seguono l'horror che seguono il cinema e questa è una cosa bella secondo me assolutamente ti faccio una domanda sulla distribuzione che arriva da stazione cinema hai trovato difficoltà nella distribuzione del film sul territorio nazionale visto il pregiudizio che c'è verso il cinema italiano e soprattutto horror italiano qua ho paura che se inizia Federico parla per un'ora e mezza no no vabbè ma voglio andare voglio andare anche abbastanza semplice allora il film ha avuto una grandissima un grande successo di vendite internazionali quindi è stato venduto a oggi in 104 paesi compresa l'America l'Inghilterra la Germania tutto l'Asia se fosse il risico avresti vinto già praticamente cioè c'è veramente il film che esce ovunque e in tanti di questi paesi esce in sala anche quindi diciamo che il film ha avuto un'ottima accoglienza ha fatto tutti i festival più importanti da Sigist allo Screen Fest al Fantasporto Trieste Science and Fiction quindi ancora adesso è in giro per Grossman andrà a tutti i festival anche quest'estate fino a che poi in America non esce il 9 di agosto in alcune sale e poi il 3 settembre uscirà sulle piattaforme quindi diciamo complessivamente il film si è venduto tanto e ha girato tanto l'Italia come al solito è sempre un po' difficile poi noi siamo una distribuzione indipendente in cui c'è Ceggiori Entertainment che fa questa avventura nelle sale insieme a Iperuraneo che è poi la produzione faranno anche l'on video si può dire Cegg Entertainment si farà l'on video e farà il tutto il digitale il Blu-ray le piattaforme e tutto quanto quest'uscita in sale è un'uscita avventurosa per cui per quello dicevo prima probabilmente ci spostiamo il primo d'agosto comunque a fine luglio perché lì navichi a vista quindi tu magari prepari l'uscita poi ti chiamano e ti dicono ah frate qui stanno a uscire con 300 copie di quel film stai bene così e che devi dire capito? non puoi fare niente la parte dell'uscita in sala è un po' una roulette russa no? ci sono tante cose non controllabili per cui alla fine dici vabbè proviamo vediamo cosa succede sì è un po' un salto nel vuoto quindi lo devi prendere anche un po' con questo spirito sapere che stai facendo una cosa che già solo riuscire a farla andare in sala sei stato bravo perché un film così tosto horror italiano e tutto quanto che insomma non fa sconti è bello forte già che tu riesci a farlo uscire nelle sale vuol dire che hai fatto un bel lavoro 18 e 16 ancora non sappiamo perché quello fa molta differenza sì però appunto quello è già un risultato se poi tu ti concentri troppo sui risultati di male perché tanto il risultato non è mai di peso non lo puoi controllare sì certo no non c'è modo di sapere come andrà una cosa per esperienza nella vita mi è successo che a volte credevo fino alla morte in una cosa velocemente scedo e tulpa come sono stati post pubblicazione per te guarda scedo usci in versione sempre un po' artigianale come uscita nelle sale però andò bene cioè quel weekend fece diversi soldi con poche sale fece 300 o 50 mila euro comunque in tre giorni con una distribuzione indipendente poi ce l'ho voto a olzero però comunque un po' di soldi li fece e andò molto bene in dvd però per dire alla fine l'hanno visto tutti scedo nel senso tutti quelli che lo dovevano vedere non è per fare ti dico non ho mai sentito una persona dirmi che non gli è piaciuto scedo cioè magari a me me l'hanno detto però tipo ma al massimo mi ha detto sì non molto però proprio che non gli è piaciuto cioè sono più le persone che mi hanno detto no però Federico Zampaglione per me è bravo infatti io un pochino che frequento i social nel mondo dell'horror io un pochino questo ritorno di Zampaglione l'ho visto come qualcosa che la gente voleva quindi spero che facciano ci sia un pochino di coesione intorno a questo film ma non solo questo lo dico chiaramente a tutti i film dei registi italiani horror perché secondo me se inizia ad andare bene il tuo quello di altri i tuoi colleghi è meglio perché torna anche la fiducia nel cinema italiano no? il cinema italiano secondo me appunto va un po' risvegliato perché onestamente quando il cinema italiano c'erano tanti film convincenti film che volevano essere poi di film senza compromessi cioè non è che uno andava al cinema a vedersi Lucio Fulci e si aspettava il soft le cose cioè pensa alla sequenza iniziale dell'aldilà cioè erano film dove il regista ma anche Dario anche Lamberto e tutti gli altri volevano colpire lo spettatore e lasciare un segno poi purtroppo questo Politica Ricorrect questo ammorbidire tutto ha portato a far diventare la maggior parte degli horror molto leggeri molto così che non ti inquietano non ti fanno nessun effetto e questo ovviamente ha prodotto una sfiducia perché poi se fai horror devi comunque accettarlo questo fatto cioè io lo so che non mi daranno dei premi istituzionali ma non me ne frega manco un cazzo capito che voglio dire se mi metto a dire eh ma però se io vado così sull'horror tosto finisce che poi tutta una serie di capisci di critici di un certo tipo di premi di ambiente poi non mi valorizza e pazienza io sono stato a Roma quattro giorni e ho imparato questa parola qua esti cazzi esatto cioè sti cazzi nel senso io faccio una cosa che mi piace e cerco di condividerla con quelli a cui piace ci devo credere devo anche fregarmene un po' se poi altre persone la reputano una schifezza cioè è un problema lavoro capito a me interessa farlo per chi in questo momento lo apprezza come lo apprezzo io poi è chiaro che uno che odia l'horror ma figuriamoci se mi posso preoccupare del suo giudizio già mediamente non me ne prega un cazzo delle cose che scrivono perché dopo più di 30 anni di questa carriera su di me ti immaginerai ho letto tutto il contrario di tutto quindi a volte mi fanno quasi ridere i commenti negativi mi faccio pure una risata e mi divertono quasi più di quelli positivi ma non me ne frega niente cioè faccio delle scelte no bisogna anche un po' staccarsi perché se no si sta a guardare non puoi avere la botta ma poi chi sei poi onestamente c'è il giudizio di una persona ma chi sei cioè nel senso fosse una persona che ne sa di cinema o un regista cioè parliamo del popolo che ha tantissima repressione ogni tanto ma ce l'hanno pure gli addetti ai lavori a volte l'invidia ma infatti non bisogna stare troppo a guardare i commenti ma che ti frega cioè nel senso poi alla fine per non essere invidiato cioè per non essere invidiato non devi fare niente e qualcuno che è meglio di te non ti criticherà mai allora a questo punto io credo che ognuno debba semplicemente fare il suo percorso mettendoci il cuore poi alcuni piacerà ad altri non piacerà ma chi se ne frega cioè va bene così è la vita che è così tanto se cerchi di piacere a tutti è il momento dove incontri il grande fallimento e poi non sei te stesso alla fine poi non sei te stesso no perché non si può piacere a tutti cioè nessuno ama gli stessi gusti del gelato capito nessuno ama lo stesso cinema nessuno ama gli stessi modi di vestire quindi se tu vuoi fare quel compromesso talmente largo che poi più a tutti significa che non ci stai mettendo più niente di artistico ma è diventato tutta una serie di calcoli stratificati ti faccio una domanda sul doppiaggio perché io sono abbastanza un un porto avanti una campagna antidoppiaggio ma ovviamente è una campagna pacifica cioè nel senso che io preferisco vedere i film in lingua originale e a tal proposito mi viene da dire che il film è recitato piuttosto bene da Claudia Girini che adesso dico una cosa che dovrei dire però io vedendo prodotti televisivi non pensavo fosse così brava perché poi vabbè ha fatto anche dei film che io non ho visto però quello che si evince che un'attrice come lei con l'esperienza che ha diretta in un film bene recita benissimo cioè è bravissima magari in una produzione televisiva dove giri in due ore non so quante possono essere scene è chiaro che non viene fuori quella qualità sempre quindi non è per me è stata una sorpresa lo dico perché io di le cose le dico quelle che penso e poi ho visto anche tua figlia parlare un inglese che veramente mi fa un'invidia perché io sono una una pippa in questo e parla un inglese incredibile e quindi con quella padronanza riesce anche a recitare bene perché se poi non parli bene inglese poi è difficile anche recitare bene no? penso allora partiamo da Claudia Claudia è un'attrice che ha fatto tantissimi film a 360 gradi cioè può aver fatto i film di Verdone può aver fatto i film Contornatore non so un film numero sconosciuta può aver fatto La Passione di Cristo di Mel Gibson che sono magari John Wick ma poi anche il film magari più sentimentale quindi diciamo è un'attrice di una grandissima versatilità che ha lavorato tanto pure all'estero ha fatto tante cose all'estero quindi magari in Italia è più percepita come un'attrice di un certo tipo ma in realtà lei non ha nessun tipo sempre per le etichette forse che diamo si torna lì forse forse anch'io ho fatto quell'errore lì lo dico come in realtà metto in evidenza la mia ignoranza in questo momento per cui non è un problema per me volevo solo sottolineare quanto in realtà me ne accorgo solo ora sia brava no no è un'attrice di grande solidità apprezzata molto pure all'estero tra l'altro parla l'inglese benissimo stessa cosa vale per mia figlia che ha sempre parlato l'inglese a scuola quindi è bilingue e ha preso un istinto di recitazione che ce l'ha proprio dentro sembrerebbe e quindi lì poi gli attori si stimolavano a vicenda Lorenzo Renzi ognuno capiva che gli altri ci stavano mettendo il massimo e quindi alzavano il livello credo che abbiano fatto tutti un ottimo lavoro onestamente gli attori sono stati veramente anche perché poi in alcuni momenti anche gli altri americani nelle scene pure quelle più violente fisicamente il film vi chiedeva molto insomma tra l'altro gli altri quei tre attori americani tre o quattro comunque stranieri diciamo non italiani a parte che ho apprezzato questa scelta di praticamente il cast è quasi diviso a metà tra attori stranieri e attori italiani questo dà un respiro internazionale al film molto intelligente secondo me perché non riesci proprio a dire un film italiano un film straniero cioè ha un pochino la zampa di fuori dal paese e avevo proprio una domanda sugli attori adesso c'è una su Lorenzo Renzi che ha questo personaggio che si chiama Arruda giusto Arruda che non so se c'entra qualcosa ma c'è una pianta medicale antica spirituale che si chiama così non so se è una casualità oppure è stato scelto apposta che è veramente bravo e volevo che mi dicessi due cose su di lui e sulla sua trasformazione per fare quel ruolo lì allora lui è un attore molto di pancia proprio in tutti i sensi cioè è uno che veramente sì c'ha proprio un attore che si butta dentro le cose e ci vuole mettere l'anima quindi quando io ci ho parlato al telefono la prima volta ho capito subito che era un attore veramente motivato nel fare le cose e quindi mi ha cominciato gli ho detto se a te ti vengono gli ho raccontato il personaggio gli ho mandato dei miei bozzetti poi gli ho detto se a te vengono in mente delle idee delle caratterizzazioni dei suoni delle cose quello che vuoi tu vai adesso sempre libero tu l'hai visto hai detto per la sua fisicità hai detto questo va bene sì la fisicità ci stava allora io gli ho detto forse se prendi qualche chilo è anche meglio così diventi ancora più imponente e lui ne ha presi tanti di chili lui ne ha presi 25 io non me lo sarei mai aspettato però per farti capire il suo proprio la sua passione poi allora ha cominciato a mandarmi dei video in cui interpretava questo personaggio e io ho detto cazzo è veramente inquietante e ho capito che lui stava lavorando su qualcosa di molto suo che però era sulla direzione giusta quindi io diciamo ho fatto un mix di indicazioni mie soprattutto all'inizio e ho fatto in modo di dargli gli input per creare un po' e lui mi mandava poi dei video delle foto che si faceva delle cose e io a un certo punto ho capito che avevamo beccato il personaggio l'ultima poi riprova ce l'ho avuta quando è entrato sul set per la prima scena che girava che poi girava la mala De Paulis e lì ho proprio visto ho detto mamma mia lui fa un personaggio che ha una specie di ritardo mentale ecco quando vedo personaggi così e penso sempre che se lo fai bene boom se lo fai male si viene un disastro cioè se venga ridere perché esatto invece lui è veramente tra l'altro io ho anche lavorato con i disabili da giovane quindi ho visto delle cose anche dei personaggi che avevo visto nel passato ovviamente meno violenti del tuo personaggio però veramente molto molto bravo lui e una domanda su tua figlia e su Claudia sono due persone che sono molto importanti per te a livello umano giustamente perché una è tua figlia e Claudia insomma è stata tua moglie no? Com'è dirigere quando sei così tanto in confidenza legato com'è dirigerle rispetto ma non era il primo film che io facevo non era il primo però io non lo sapevo quindi volevo volevo chiederti come era il terzo quindi avevamo dei automatismi che mi bastava veramente poco per capito comunicarle quello che avevo in testa non cambia molto quindi non ti cambia molto no a me a me aiuta perché il fatto di conoscere meglio una persona ti può aiutare a sapere anche qual è il suo miglior potenziale come farglielo esprimere cioè tu sai che quell'attore in determinate situazioni rende ancora di più e allora cerchi di metterlo meglio in quella situazione lì quando magari un attore non lo conosci devi scoprire proprio ogni volta dov'è che ti rende di più e dov'è che magari lo vedi che fa più fatica ma in questo caso c'erano degli attori veramente di livello convinti e quindi ti dirò che da la vera a tutti gli altri non è che io cioè io gli davo delle indicazioni più che altro di stati d'animo di mood ma loro si erano molto calati nei personaggi e quindi si è creato un flusso per cui poi ormai si erano preparati molto sulla scendiatura non si tratta solo di prepararsi si tratta di entrare veramente dentro i panni di qualcuno cioè un film riesce quando l'attore a un certo punto e il personaggio si conoscono così bene che è un futuro anche dall'attore a un certo punto cioè se diventa l'attore entra nei panni del personaggio e lo vedi che è completamente calato dentro quella cosa che in quel momento tu se parli parli al personaggio non parli all'attore cioè quello sta completamente dentro il suo mondo e il suo personaggio soprattutto quando poi devi fargli fare dei ruoli così fisici così capito anche brutali cioè si devono un po' calare non è facile ripeto a volte far capire sempre tutto quello che c'è in testa perché è un genere irrazionale è un genere dove ti servono delle reazioni a volte che sono folli che sono quindi devi cercare con gli attori di stabilire un rapporto di grande intesa nel cinema horror se no te viene come dicevi tu viene da ridere c'è una una delle parti che ovviamente mi è piaciuta di più perché unisce il cinema del passato col cinema nuovo che è quella del pozzo quindi dove appunto non dico cosa accade però c'è appunto Lorenzo Renzi che compie delle azioni violente mi ha colpito molto come è fatto bene è fatta bene la scenografia del pozzo si capisce che non è non è reale ma non così al primo colpo bisogna guardarlo tanto e trovo che sia fatta veramente bene e volevo chiederti una cosa del genere perché mi piace avere anche delle informazioni più dentro una scenografia come quella che secondo me è fatta molto bene quanto erode un po' il budget di un film come questo è un altro tanto non lo so se puoi dire in percentuale quanto può essere il costo di una scenografia le scenografie non hanno un costo ben preciso dipende da quello che devi realizzare quindi comunque questo è stato un bel impegno economico cioè ti spiego o tu usi scenografie per lo più naturali cioè io vado in quel certo in un sottoscala esistente vado in una casa esistente già arredata e giro quello allora diciamo che lì il costo di scenografia è molto ridotto perché sta nei costi dell'affitto ambiente ma la scenografia è già lì infatti ti chiedevo perché questa è tutta ricostruita questa parte qua giusto? quella parte del pozzo è tutta ricostruita per quello che lo dicevo perché poi mi volevo chiederti quanto averla ricostruita ti ha agevolato nel fare le riprese che volevi no quello tantissimo perché c'avevo tutti gli angoli che volevo e quindi anche solo buttare uno in un pozzo che non è un vero pozzo è più comodo piuttosto che buttarlo in un vero pozzo serviva una costruzione per girare quel tipo di sequenze erano sequenze troppo complesse troppo strutturate e poi quando vedrete il film le vedrete io non voglio svelare adesso troppo di retroscena ma la scenografia credo che in un horror sia uno degli elementi più importanti pensa Suspiria senza quelle scenografie pensa che ne so Texas Chainsaw Massacre senza quelle scenografie pensa che siano ricostruite o no quindi comunque che siano che siano ricostruite o no non conta quelle sono esigenze se tu non trovi quell'ambiente hai bisogno di un ambiente così particolare che non si riesce a trovare magari pensi di ricostruire quell'ambiente altri li cerchi e poi magari li adatti a quello che tu volevi attraverso l'arredamento capito cioè cambi degli elementi di arredamento e sport stiamo un po' rispondendo alla domanda si vai scusa però però le scenografie nell'horror sono fondamentali stiamo un po' rispondendo alla domanda che avevo dopo perché Jason Bloom che immagino sai chi è il fondatore della Bloom House ha svelato in un'intervista che il successo dei suoi film si basa sul decidere un punto forte del film tra le location gli effetti speciali e il cast praticamente lui ai registi perché è partito che non è che avesse tutti questi soldi imponeva di scegliere una cosa sola su cui mettere il grosso del budget allora la domanda è questa tu quando hai iniziato il film avevi un budget hai fatto più o meno un ragionamento anche come fa Jason Bloom cioè devo investire di più su una di queste cose mi sembra che un po' stavi anche rispondendo già prima in questo senso lo devi fare nel sforzo a me io mi vengo a dire gli effetti e le scenografie perché sono le cose che spiccano e poi chiaramente il cast è un gran cast però forse ti sei agevolato anche perché comunque ci sono tante conoscenze tante è un lavoro anche di squadra in un certo senso però c'è anche attori americani la lavera gli altri americani diciamo tu devi economizzare quando fai un film ma questo non un horror in generale tu sai che c'hai un budget e devi rientrare in quel budget allora a questo punto devi capire quali sono le cose che fanno il film quali sono veramente le cose che porteranno il film ad avere una sua personalità una sua forza e ovviamente devi puntare su quelle ma questo in generale ti trovi a farlo pure se devi non lo so in qualsiasi forma d'arte cioè sai che se c'hai un budget devi puntare sulla ciccia e cercare di utilizzare il budget per le cose che veramente sullo schermo perché sai il budget si può buttare pure su cose che non vanno sullo schermo tutta una serie di cose che non sono sullo schermo ma che sono intorno quindi se tu per esempio vuoi tutta una serie di super comfort vuoi la roulotte così vuoi quell'altro poi cioè cominci a spendere appunto super catering quello quell'altro allora quelli poi sono soldi che tu togli allo schermo la gente quella roba non gliene può fregare di meno non la vede invece sullo schermo poi tu devi salvaguardare lo schermo cioè questo va sullo schermo no questa magari è un lusso che ci vogliamo concedere noi però nessuno ne sa niente ma ci costa allora rinunciamoci e cerchiamo di mettersi soldi per fare quella scena a cui teniamo tanto un po' meglio e quindi devi fare i conti questo è il lavoro anche un po' sia del regista che della produzione dare priorità alle cose a cui tieni di più e proteggerle perché se poi tu butti soldi in cose così secondarie e poi devi fare la scena principale ma questo vale anche per il tempo sul set il tempo costa cioè se io voglio avere più tempo su una scena dove so che devo dare il massimo magari su altre due scene devi essere bravo a risolverle in maniera più semplice con meno inquadrature cioè salvando un po' di quel tempo che poi ma non vuol dire buttando la scena tu una scena può essere validissima è interessantissima anche se è un po' più semplice e magari girando in maniera più semplice quel dialogo quello che sia salvi del tempo che poi ti vai a prendere per la scena dove veramente ti serve fino agli ultimi due secondi quindi è molto complesso fare tutto questo cioè è molto anche elogorante per il regista è un mestiere che ti tiene sempre con la testa accesa non stacchi mai mi viene da mi viene da dire che spesso chi entra dentro al mondo del cinema poi inizia a valutare i film in modo inverso cioè con questi soldi è riuscito a fare questo film quindi quando uno poi conosce i budget conosce le difficoltà dice ah cavolo però con questo budget ha fatto questo risultato mentre invece il pubblico purtroppo si abitua si standardizza a una qualità di film da 100 milioni di dollari ma non è detto che siano buoni non è detto che siano buoni però su certe cose si standardizza su quella qualità poi manca sceneggiature belle mancano mancano le atmosfere probabilmente nei tanti film commerciali però ecco sulla recitazione sulla qualità di tante cose si standardizza su quello e non pensa magari che un film come The Well che non è sicuramente penso fatto con 100 milioni di dollari è un film che raggiunge un livello di qualità e di intrattenimento alto quindi io faccio il ragionamento inverso parto anche da le difficoltà che ci sono nel fare un film quindi questa e poi era una mia riflessione che ho messo anche nella recensione ti volevo chiedere ci sono state scene una scena particolare particolarmente difficile da girare che non sia spoiler perché se no rovitiamo il film beh diciamo tutte le scene nella stanza del pozzo sono molto molto difficili perché sono scene compresse dove gli attori si potevano anche fare male quindi servivano tante attenzioni abbiamo dovuto provare riprovare fare un lavoro molto accurato in effetti da quello che ho visto si sono fatti male cioè dalle scene si sono fatti male parecchio però in realtà lì non c'è invece una volta per esempio su Shadow se fece male un attore rischiamo di dover interrompere le riprese guarda io penso una cosa tu per esempio puoi registrare una canzone con l'orchestra più bella del mondo con tutti i musicisti più bravi al mondo metterci il fonico più bravo al mondo nello studio più costoso nella cosa più costosa ma questo non ti garantirà mai che al pubblico quella canzone piacerà cioè tu non hai nessuna garanzia perché poi fai la canzone così la fai sentire la gente ti risponde tranquillamente è una cagata e del fatto che tu hai chiamato i migliori musicisti del mondo non gliene può fregare di meno non se ne anzi peggio perché se glielo dici dicono pure ah e quindi hai dovuto chiamare pure tutto questo dispiegamento dei mezzi per fare questa cagata peggio ancora il pubblico è vero sì gli effetti è vero sì le cose però il pubblico poi è anche un po' più puro rispetto a questo cioè al pubblico gli deve arrivare una cosa non si mette subito a dire il budget il non budget quanto avranno speso queste sono cose da detti ai lavori il pubblico si mette seduto e vede e ascolta non gli interessa sapere quanto hai speso quanto è costato quanto è fatto gli deve arrivare qualcosa io a volte ho visto che fai lo spettacolo chitarra e voce ti metti di cuore canti di cuore impazziscono tutti magari altre volte stai a fare mesi di prove e non c'hai lo stesso risultato perché magari invece qualcuno ti scrive sai che quando ti ho sentito chitarra e voce mi sei piaciuto molto di più quindi non è detto che il pubblico sì certo magari ecco su un certo tipo di cose tipo la fantascienza allora lì o l'action dove proprio veramente devi far saltare in aria i palazzi devi fare delle cose pazzesche è chiaro che lì il soldo ti aiuta però per esempio sull'horror quanti film abbiamo visto che non facevano paura a nessuno capito poi altri film indipendenti magari fatti con meno soldi però la gente comunque tu ti sei circondato comunque di collaboratori di grande esperienza perché ho guardato un po' così su MDB eccetera per esempio al montaggio c'è Eric Strand che ha montato Donnie Darko ha montato Firestarter insomma tra l'altro Donnie Darko è anche un film che io amo come ti relazioni col montaggio e soprattutto con Eric a sto punto cioè lo lasci lavorare poi arrivi oppure gli dai indicazioni come funziona cioè per spiegarlo a chi non è nel mondo del cinema Eric Strand è un grande montatore americano è un montatore di Donnie Darko di tanti altri film io ci avevo lavorato su Cero mi ero trovato bene è una persona molto tranquilla si mette lì seduto osserva tutto il materiale senza fretta ha i suoi tempi si segna tutte le cose che gli piacciono è un metodico capito è una persona c'è anche una certa età ed è molto tranquillo lui osserva tutto però ha un occhio veramente di falco si ricorda tutte le cose così e si segna le cose che gli piacciono dopodiché lui io gli lasciavo perché il montaggio è stato fatto in due tempi la prima parte lui ha cominciato a lavorare dall'America da Pasadina mentre io giravo mi facevo mandare i premontati e poi è venuto a stare un po' qui a Roma la finalizzazione la fate insieme? si la finalizzazione si perché ovviamente poi ci sono tutta una serie quante volte lo rivedi il film? prima di dire è finito lo vedi una quantità di volte spaventoso e lo vedi tantissime volte perché poi è un lavoro per strati lo vedi fino al punto che a un certo punto inizia a dubitare di tutto cioè perché può essere anche una cosa psicologicamente c'è sempre quel momento ma quello vale pure per i dischi che c'è sempre quell'ascolto del disco dice oddio mio fa cagare tutto quanto però poi sai pure che sono fasi che affronti ci sta anche che una cosa che la rivedi o la riascolti 50 volte a un certo punto è anche normale che ti faccia cagare nel senso è anche una questione del cervello che stufo guarda più che ti va a cagare ti porta proprio allo sfinimento però uno poi alla fine dopo tanti anni capisce anche che sono vuol dire che ti devi staccare magari un paio di giorni ah è giusto ci teniamo a parte questa domanda per far capire anche quanto può essere faticoso fare un film anche quando l'hai finito fare un film è un'esperienza è un'esperienza veramente quando l'hai finito sei nella fase finale anche solo doverlo riguardare riguardare per essere sicuro che è tutto fatto come volevi tu è una parte anche quella faticosa ma fare un film è faticosissimo dall'inizio alla fine è faticosissimo la scrittura è faticosissima devi riuscire a raccontare una storia a curare i personaggi le situazioni le cose quindi ci devi perdere un sacco di tempo rileggere mille volte staccare ripartire correggere ti metti in anno poi lo devi mettere in piedi quindi se uno decide di far regista deve sapere a quello che va in conto non sono quei mestieri che tu dici io mi metto qui e mi diverto no perché allora se lo fai così finisce che proprio ti va ti crolla tutto addosso perché c'hai delle responsabilità enormi cioè devi comunque dire a tutti quello che devono fare perché poi le persone non si prendono la responsabilità di fare delle cose di testa loro che magari procurano dei danni e fanno perdere soldi e dice chi ti ha detto di fare sta cosa l'hai fatta tu adesso sei responsabile di questo e la gente lì dice il regista il regista si prende le colpe gli oneri e gli onori le responsabilità cioè se tu fai fare una cosa a uno scenografo a chi sia il direttore della fotografia e questa cosa non funziona e fa perdere tre ore di tempo ti devi pigliare quella responsabilità perché poi i costi aumentano e tu hai sbagliato a fare quella scelta quindi le persone ti aiutano sul set ma devi decidere tutto tu perché poi la decisione sta a te come il chirurgo io ti faccio l'anestesia io ti passo il ferro io ti faccio la cosa ma la mano che taglia deve essere la tua non a caso questo parallelo non a caso del chirurgo è una cosa che si è detto noi prima esatto però il chirurgo è quello che alla fine opera e se sbaglia è il chirurgo che ha sbagliato quindi è un po' quei mestieri così l'allenatore l'allenatore ha sbagliato perché non ha fatto entrare quel giocatore non ha fatto la sostituzione alla fine la colpa è sua capito quindi sono quei mestieri dove non puoi mai sottrarti a questo devi sapere che ci devi mettere la faccia fino in fondo e devi dare due anni e mezzo tre della tua vita a quest'opera ti darà delle gioie ti darà dei dolori ci saranno momenti dove sarai euforico momenti dove sarai a terra perché magari qualcosa sarà assaltato e per ora sta andando tutto bene mi sembra per ora no ma questo io lo dico in generale si si no ci tenevo a parlare quando si fa un film io parlo della della fattura del film cioè del costruire il film una volta che il film è costruito poi lì tu stai dato il massimo hai fatto tutto quello che dovevi fare un pochino come dire lo puoi lasciare un po' andare al suo destino come uno farebbe con un figlio che è cresciuto dici vabbè io ti ho dato tutto quello che ti potevo dare adesso ti osservo ti sto vicino ti controllo ti consiglio però sta pure un po' a te ecco lo puoi fare ma prima ci vogliono due anni e mezzo di culo ti faccio due domande sulle ultime sul film si poi ragazzi che io devo andare infatti ti vedo che ti sto distruggendo però ti ringrazio tanto per avermi dedicato tutto questo tempo facciamo anche un po' più veloce una è sulla colonna sonora che è di Oran Leufer giusto? si Oran Leufer ho fatto delle cose io mio fratello Francesco e anche Luca Chiaravagli quindi sono quattro autori Oran Leufer si è occupato di tutta una parte di musica alcuni temi che ci sono sotto mi sembra si 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 ha fatto un ottimo lavoro ma abbiamo lavorato bene sulle musiche ci sono stato molto dietro ho voluto creare delle atmosfere un po' disturbanti inusuali ci sarà una colonna sonora? penso proprio di si nella versione del blu ray ok e poi l'ultima domanda sul film poi se c'è qualcosa che vuoi dire tu sul film se c'è stato qualche problema tecnico che sei riuscito a risolvere in modo diciamo creativo o insomma hai trovato il mio tallone d'achille è sempre la macchina della nebbia che io ne uso molta e quindi decombatto sempre contro la nebbia perché la nebbia è meravigliosa appena tu dai motore azione il vento se la porta via e quindi la devi rimettere il mio incubo è la nebbia il prossimo film non ce l'ammetto perché mi manda il manicomio oppure devi guardare un po' al mezzo e vedere il vento come è se c'è poco vento no ma quella vera non la vedi nella macchina della presa deve essere veramente immensa per vederla è come la pioggia la pioggia vera la macchina della presa non la legge la vedi appena appena così ti faccio un paio di domande generiche giusto per dare anche un quadro più personale di te ai fan dell'horror quali sono i registri horror della nuova generazione che ti piacciono e soprattutto che ti influenzano perché alla fine ci si fa influenzare anche da da quelli di oggi no? assolutamente no io più che mi influenzano mi piacciono perché io non senti che magari ti danno anche lo stimolo a fare qualcosa oppure lo stimolo sì però non apprendere cose che vedo nei film quella è una cosa che non mi piace cerco più che altro poi di trasporle sempre nel mio linguaggio per cui di trovare sempre poi un modo di fare mie queste cose beh mi sono piaciuti che ti posso dire appunto come diciamo i film dei francesi mi piace Tai West mi sono piaciuti molto i primi due hostel di Eli Roth mi piace che ti posso dire mi sono piaciuto mi è piaciuto Talk To Me mi è piaciuto When Evil Larks mi è piaciuto Speak No Evil beh guarda abbastanza piaciuto The Barbarians soprattutto la prima metà quella più stesa più così c'è tanto buon cinema horror che ringraziando Dio porta avanti la bandiera sì sì ci tenevo perché volevo far vedere anche che sei effettivamente un appassionato ma anche che hai buon gusto nell'horror cioè sei proprio horrorofilo da tanto ultima domanda la più la più dura l'evoluzione del cinema italiano dei prossimi anni secondo te del cinema in generale del cinema allora preferisco sul cinema horror perché è la cosa che ci interessa non lo posso sapere perché quello dipenderà molto anche dalle scelte che faranno i registi e se riusciranno poi a far materializzare questi film ma secondo te cos'è che può aiutarlo visto che tu sei dentro hai fatto un film cioè cos'è che potrebbe aiutarlo le idee le idee cioè ci vogliono delle idee però ci vuole anche qualcuno che ci creda perché se i produttori no lo dicevi anche tu sono usciti un po' di film horror ultimamente però sono stati per lo più film horror molto soft sono d'accordo su questo non erano brutti ma erano non erano brutti però non erano neanche così incisivi secondo me non avevano erano soft erano una via di mezzo tra un film drammatico una storia un po' così magari capito misteriosa e l'horror secondo me quel tipo di horror poi alla fine rimane troppo nel mezzo e allora se bisogna tornare a farli bisogna avere il coraggio di farli veramente paurosi o quantomeno di provarci veramente non di trovare il compromesso ecco ho visto molti film che cercavano il compromesso secondo me non va velocissimo una domanda di Danny Aaron Fist invece i registi del passato che ti hanno influenzato poi ragazzi basta sicuramente va bene molto Lucio Fulci Lucio Fulci più di tutti anche Argento Ramberto Bava Mario Bava mi sono piaciuti anche molto i film quelli tipo di Ruggero Deodato oppure tutto il giallo all'italiana insomma di Sergio Martino a me piaceva tutto però c'è molto gotico per esempio in questo The Well da casa dalle finestre che ridono il cinema della Universal c'è un po' nel tuo background perché io ho visto anche tanto di quel gotico lì non lo so magari l'ho visto solo io no no il gotico c'è sicuramente uno dei mostri Universal che ti piace di più parlando proprio dei classici Frankenstein Dracula l'uomo invisibile Frankenstein Dracula l'uomo lupo cioè qual è quello che allora guarda io ero grande fan di Frankenstein e dell'uomo lupo in particolare molto bello di questi due e nell'uomo lupo tra l'altro c'è tanta nebbia senti io ti devo salutare che mia moglie mi reclama poi fa un horror in diretta non vorrei che esatto ciao ragazzi grazie mille di tutto ci vediamo al cinema con The Well tra poco esatto andate tutti a vederlo e grazie ancora ciao Fede ciao ciao